Una sala audizioni dedicata all'ascolto delle persone vittime o testimoni di violenza di genere è stata inaugurata in questura a Biella, negli uffici della squadra mobile. Presenti il questore Claudio Cicimarra, il prefetto Franca Tancredi, il procuratore capo Teresa Angela Cameglio e il presidente di Soroptimist Italia, Giovanna Guercio. È un'opportunità data alla Polizia di Stato grazie al protocollo stipulato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Soroptimist International. Ha spiegato il questore, l'opera della Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme continuerà in un ambiente più familiare, caloroso ed accogliente. La Polizia di Stato è un partner essenziale nella realizzazione della prevenzione e contrasto al fenomeno, ha ricordato il procuratore Cameglio. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che quando la Polizia Giudiziaria ha redatto un verbale circostanziato nell'immediatezza dei fatti, tale prassi si è rivelata di estrema utilità in dibattimento ai fini del riscontro probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. Il Soroptimist International d'Italia ha allestito ormai 200 stanze tutta per sé, presso questure e presso caserme su tutto il territorio italiano, ha ricordato il presidente Guercio. Grazie.